Anche questo parcheggio, anche quest'opera, anche questo intervento è stato messo a segno, è stato realizzato a costo zero da parte dell'amministrazione. Sì, un intervento di fondamentale importanza perché l'ingresso della frazione Lancusi, un parcheggio di oltre 170 posti, un miglioramento della viabilità, come hai detto tu, un intervento a costo zero che è rientrato in un accordo pubblico privato per la realizzazione del centro commerciale Le Cinque Porte, che non solo ha permesso la realizzazione di questo parcheggio, ma ha migliorato anche la viabilità all'uscita autostradale, Salerno e Avellino. Quindi un intervento che non è costato nulla alle casse comunali perché, come abbiamo fatto in questi anni, abbiamo sempre tenuto un occhio al bilancio per non gravare sulle casse comunali, ma è un intervento che ha cambiato radicalmente una parte del nostro territorio. Vorrei ricordare che più prima c'era un ingresso che non permetteva l'ingresso alla frazione in maniera adeguata, adesso c'è un parcheggio che ha dato sfogo non solo ai residenti del quartiere, ma anche a tutte le manifestazioni che possono essere realizzate in questo parcheggio o in altri posti e utilizzare questo come parcheggio. Quindi un'opera importante a servizio della comunità.